Buongiorno, abbiamo parlato dell'innovazione, in particolare l'innovazione dei dipartimenti di salute mentale e ho presentato dei dati riguardo agli strumenti di telemedicina che avevo introdotto in Regione Piemonte la videoconferenza e la psicoterapia computerizzata per il trattamento della depressione moderata e lieve con i medici di medicina generale e i dipartimenti di salute mentale.